Polemiche sterili, l'etichetta così l'amministratore delegato di strada dei parchi Cesare Ramadori sono quelle dei casellanti che nonostante lo sopero si sono visti entrare in funzione il casello automatico nei giorni scorsi. Il processo di automazione va avanti, la razionalizzazione ci sarà, è accaduto anche in altre autostrade, dichiara l'amministratore delegato. È una polemica che diciamo in questo momento sterile perché noi è vero che stiamo razionalizzando tutti gli svincoli, cosa che hanno già fatto tutte le altre autostrade d'Italia e siamo gli ultimi a fare questa cosa. Per noi è estremamente necessaria perché visti i volumi di traffico che ha l'autostrada i sistemi automatici sono sicuramente efficaci e è la soluzione del futuro. La figura dell'esattore a mio parere è una figura che tenderà a scomparire e andrà riqualificata. Il nostro obiettivo però specifica è potenziare il servizio viabilità per cui i dipendenti verranno reimpiegati lì e altrove. Nessuno vuole ovviamente far perdere posti di lavoro, dice. Tenga conto che noi dobbiamo potenziare il servizio viabilità, che sono gli ausiliari alla viabilità che sono quelli che danno più assistenza agli utenti in caso di necessità. E' la nostra intenzione potenziare quel traffico. Abbiamo internalizzato una serie di attività spostando la gente dalle stazioni su queste altre attività. Noi cerchiamo di mantenere il personale per quello che abbiamo oggi in forza. E sull'aumento dei pedaggi di cui si parla ormai ogni anno, lui risponde così. Si aumenta il pedaggio perché noi facciamo investimenti. Aumenta tutti gli anni ma perché facciamo investimenti tutti gli anni. Io ho spiegato in varie occasioni, non ultimo, il 31 dicembre, il 30 dicembre dell'anno scorso, come funziona l'incremento tariffario. È dato da una formula matematica dove c'è dentro per grossa parte gli investimenti che vengono realizzati.